Buongiorno, sono Giussi Barbara, ginecologa della clinica Mangiagalli e del soccorso violenza sessuale domestica del Policlinico e nel prossimo incontro del Mangiagalli Journal Club insieme alla professoressa Cattaneo, professoressa ordinaria di medicina legale presso l'Università degli Studi di Milano e alla dottoressa Gaia Spinelli, psicologa del soccorso violenza sessuale domestica, affronteremo il tema della violenza sessuale online e offline. La violenza sessuale non è esclusivamente un problema di natura etica, giuridica, filosofica, sociologica, morale, legale, ma è anche e soprattutto un problema di estrema importanza sanitaria. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha più volte ribadito come la violenza contro le donne sia uno dei più grossi problemi di salute pubblica a livello mondiale. In questo incontro cercheremo di trattare come una donna vittima di violenza sessuale debba essere accolta, con quali modalità e quale sia un corretto approccio al follow up sanitario e psicosociale della donna vittima di violenza. Inoltre affronteremo un argomento di grande attualità e interesse che è quello della violenza sessuale online, del revenge porn, che è stato recentemente regolamentato anche a livello legislativo all'interno della legge Codice Rosso. Grazie. Grazie.